Ma che fai davanti al frigo? Sono in crisi, non so che cosa preparare per la cena di domani Ma perché? Chi viene? Ma che te lo sei dimenticato? Dobbiamo organizzare la cena per far conoscere Damiano a tua cugina Lucia Me l'ero dimenticato Vabbè, qual è il problema? Fammi vedere Mamma mia che tristezza Ma siamo a dieta? Mh, spirituoso, dai avanti scrivi la lista della spesa Oh, però cucini tu eh Non ti preoccupare, non voglio mica morire di fame Mh, dai avanti scrivi Vediamo un po' Per primo facciamo cacio e pepe, che ne dici? Mh, buono, sì Ma procediamo con calma Dobbiamo pensare all'aperitivo Allora, delle olive, delle mozzarella e un po' di pizza Sì, e da bere il crudino e lo spritz col prosecco Col prosecco, ok Come antipasto facciamo delle verdure grigliate? Sì, pomodori, zucchine, melanzane E peperoni No dai, i peperoni la sera sono pesanti E tu non li mangiare Pe-pe-roni Ne prendo due Che dici, facciamo anche un secondo o è troppo? Ma sì, facciamolo il secondo Anche perché Damiano mi sembra una buona forchetta Sì, a Damiano piace molto mangiare E a cosa pensavi? Un classico Salti in bocca alla romana Va bene, allora Scrivi Sei fettine di carne Un etto e mezzo di prosciutto crudo La salvia c'è? Sì Per il cacio e pepe non so se abbiamo abbastanza pecorino Guardo Ne abbiamo solo questo pezzetto Eh, ne prendo un bel pezzo Mezzo chilo Di pasta invece ne abbiamo in abbondanza Controllo Abbiamo due pacchi di penne rigate Un pacco di tortiglioni E anche gli spaghetti li abbiamo Ok, ok, facciamo gli spaghetti Allora Olive verde e nere Sì Un po' di pizza Sì Carne Prosciutto crudo Pecorino romano E peperoni E le altre verdure? Controlla se ne abbiamo per favore Comodori, ok Melanzane, ok Di zucchine abbiamo solo questa Allora Zucchine Ne prendo quattro Va bene Io vado Ok, tutto pronto? Sì Benissimo Ciao Ciao, bello